Sono quasi due anni ormai che la protezione civile è al fianco dei sindaci di ogni comune, dei loro cittadini e anche dei medici ed infermieri impegnati nell'emergenza sanitaria. Ad Agropoli i volontari svolgono un lavoro incessante per la città, prestando assistenza alle vaccinazioni presso l'ospedale civile, controllando gli accessi e le uscite, mantenendo l'ordine, evitando assembramenti, oltre a garantire il sostegno ai cittadini non deambulanti. Anche in questi giorni la protezione civile è in campo per la somministrazione della terza dose del vaccino e per il sistema sanitario ovunque vi sia necessità, allo scopo di arginare il più rapidamente possibile la nuova ondata e l'aumento dei casi positivi nella città di Agropoli. A parlare e spiegare meglio quale sia stato l'impegno complessivo di quest'ultimo anno sono i numeri delle attività generali di supporto. Facendo un semplice conteggio scrivono sul gruppo comunale della protezione civile della città di Agropoli di 136 giorni complessivi per le squadre in ospedale per una media di 150 vaccini al giorno, siamo riusciti a coordinare per far vaccinare ben 20.400 persone tra prima, seconda e terza dose. Dai dati emerge che nel 2015 i volontari hanno svolto 275 ore di servizio da quando è iniziata l'emergenza sanitaria nel 2020, si contano 4.444 ore e 6.269 nel 2021. Nella gestione della pandemia la protezione civile ha dimostrato di essere uno strumento fondamentale, un mini esercito di volontari dunque messo in campo per affrontare l'emergenza Covid-19, ognuno con un proprio ruolo, la propria vita, la propria professione, ma con un obiettivo in comune, proteggere l'intera popolazione.